Rivel rende al partenio Lombardi quale occasione migliore per rialzare la testa se non questa. I calabresi sono ultimi in graduatoria e stanno vivendo una situazione che definirla complicata sarebbe paradossale e riduttivo. Mister Andreoli esonerato dopo la caduta con la Paganese per 5 a 1 ha dovuto abbandonare la nave. Cosentina è purato dalla società biancorossa che sta ancora guardandosi intorno prima di scegliere un sostituto. La squadra è attualmente guidata dal secondo di Andreoli ovvero Fabio Tricarico ex calciatore di Salernitana Paganese e Palmese tra le altre. La rosa a disposizione dei calabresi non è nemmeno di basso livello anzi ma forse l'età media molto bassa e solo un punto raccolto in sette gare hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Mister Tricarico sta comunque provando a dare il suo apporto alla squadra. La situazione è come dicevamo quasi catastrofica. Basti guardare la differenza Reti di meno 12 la peggiore dell'intero girone insieme al Rieti appaiato ad un punto con i calabresi. Al partenio i biancorossi proveranno a rifarsi e molto probabilmente vedremo anche alcuni cambi nell'undici titolare. Ma quasi sicuramente il trainer non modificherà il classico 3-5-2 visto in casa contro il Potenza. Una gara in cui i padroni di casa hanno almeno ottenuto la magra consolazione di incassare una sola rete. Rende D'Avellino pronte al riscatto? Beh, chi avrà più fame tra le due la spunterà sull'altra.